I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. E' stato illustrato al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano il progetto La Repubblica delle Foreste, custodi dell'Alpe della Luna, grazie al quale i comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda hanno vinto il bando del PNRR relativo alla rigenerazione dei borghi. Le due municipalità hanno ottenuto un finanziamento corrispondente a 2 milioni e 80 mila euro di fondi non soggetti a cofinanziamento, che prelude inoltre alla possibilità di accedere ad ulteriori risorse destinate alle piccole e medie imprese del territorio. Il progetto è stato descritto al pubblico del Teatro Papini da Laura Caruso di Caserma Archeologica, l'associazione Conselia Sansepolcro, che ne ha curato la redazione. Gli interventi previsti sono 15 che a loro volta comprendono dei sottointerventi e che sono raccolti in quattro aree tematiche. Nel primo ambito sono ricompresi il potenziamento dei musei interattivi, la digitalizzazione, la valorizzazione dell'ufficio turistico del centro guide di Badia Tedalda, un ecopoint per l'affitto e la ricarica di bici elettriche, un punto di ristoro, sempre a Badia Tedalda, un bike park a Pieve Santo Stefano e i sentieri ciclabili nella riserva dell'Alpe della Luna, un sentiero lungo il Tevere, una palestra all'aperto e un intervento di arte pubblica a Pieve, il riplistino del percorso ciclabile pedonale del Raggiolo a Badia Tedalda. La seconda area comprende l'archivio dei diari, l'archivio storico, i libri fatti a mano e una nuova biblioteca a Pieve in un sistema integrato tra conservazione e ricerca, borse di studio, rigenerazione urbana dell'ex matatoio di Badia per la realizzazione del centro per le arti e la creatività, il progetto Il Paese sul Paradiso, legato a Monte Botolino. La terza linea di intervento riguarda una sezione di scuola montessoriana Badia Tedalda, campi estivi residenziali di educazione sport per ragazze e ragazzi, campi sportivi polivalenti a Pieve Santo Stefano con interventi di arte pubblica e palestra all'aperto per adulti e bambini. Il quarto e ultimo filone è dedicato al Tortello di Pieve con registrazione del marchio e commercializzazione, a un piano di comunicazione e promozione delle varie attività e alla mappatura delle case disponibili per gli smart worker. Il successo nel bando è il premio per un lungo lavoro, ha detto il sindaco di Badia Tedalda, ed è un premio per un progetto associato. La sinergia ha fatto la differenza insieme alle foreste di Via Maggio, all'archivio dei diari alle piste ciclabili e ai tanti contenuti importanti che abbiamo messo insieme, coordinati da Caserma archeologica, a un progetto di così grande valore, ha detto il sindaco di Pieve Santo Stefano, ci pone davanti ad una responsabilità incredibile, quella di prendere quanto di buono è stato realizzato e fare in modo che possa portare risultati. Sentiamo i sindaci Claudio Marcelli, Pieve Santo Stefano, e Alberto Santucci, Badia Tedalda. Il riassunto è tante associazioni insieme alle amministrazioni comunali hanno elaborato un progetto di futura crescita e di sviluppo del territorio collegato al nostro turismo, al nostro ambiente, tant'è vero che il titolo parla delle foreste dell'Alpe della Luna. Quindi oggi il sindaco di Pieve e il sindaco di Badia Tedalda hanno un grande compito, trasferire questi soldi nel territorio e farli soprattutto trasformare in solide realtà. L'Unione fa la forza, è quinto assoluto il nostro progetto associato sui 13 finanziati in Toscana, su tantissimi progetti presentati. Questo significa una qualità del progetto che premia però anche un lungo lavoro, mesi di studio dei bandi e cercare le consulenze giuste, studiarci la mattina, il pomeriggio e anche la notte. Quindi siamo soddisfatti perché i contenuti ci sono, i soldi saranno spesi bene. Qui si parla di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli centri storici. Non è che ci si poteva fare qualsiasi cosa. Dovevamo essere attinenti a queste finalità, alle misure del progetto e pensiamo di averci messo quello che serve per un rilancio turistico delle nostre zone. It looks something like you.